Paura per Fernanda Lessa. Le foto con il volto tumefatto. Un incidente che ha fatto preoccupare e non poco la showgirl. Attimi di paura e un brutto incidente hanno rovinato l'estate di Fernanda Lessa. La showgirl ex top model con un riel su Instagram ha mostrato il suo volto tumefatto per colpa di un incidente. Nulla di troppo grave per fortuna, ma poteva andare sicuramente peggio. Fernanda ha raccontato che stava portando fuori i suoi cani quando è inciampata dal sesto gradino delle scale provocandosi un taglio sul sopracciglio e un vistoso ematoma su quasi tutto il lato. Destro del volto. Non sono ancora al 100%, ma quasi, ha scritto Lessa a corredo del video in cui mostra il suo viso che piano piano torna alla normalità. Dovrebbe essere solo una passeggiata con i miei due cani al parco. Invece sono caduta dal sesto gradino di faccia per terra. Sono grata al cielo per non aver rotto gli zigomi, il naso, i denti, nessun danno serio alla testa. Quattro punti alle sopracciglia. Non sono ancora al 100%, ma quasi, questo è il suo racconto. Sotto al video sono molti i messaggi di pronta guarigione a lei rivolti. Un segno di affetto da parte di amici e fan. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.